adesso un buon gelato da cercenà l'ultimo gelato della stagione buongiorno mi da il solito friggino a tre palle frutta brava faccio io? si si faccio pure lei adesso c'è fresina che sta facendo i cd coltivatore diretto che tenga lì che me lo voglio vedere bene perché è fino al prossimo anno che non ne becco più ok grazie buongiorno al prossimo anno allora